Il volontariato è un seme, io dico sempre, che nasce nel cuore. Di solito uno è predisposto a questo. Io, sin da piccola, una cosa stranissima, però è stato in questo modo. È una cosa che arricchisce interiormente tantissimo. Io invito sempre tutti a fare il volontariato perché poi si sta meglio. Aiutarsi e darsi per il prossimo è una delle cose migliori che possa succedere e che arricchisce la vita, veramente.